Non si ferma la crescita della scuola basketarezzo che è orgogliosa di comunicare l'ingaggio di Marco Evangelisti come nuovo coach del settore giovanile amaranto. Evangelisti viene da tanti campionati da giocatori in Serie A, di cui gli ultimi cinque trascorsi ad Agrigento dove ha chiuso la sua esperienza nella stagione appena conclusa. Icona della palla canestro a retina e valdarnese per le tante stagioni vissute da protagonista ad alto livello, Marco è fratello di Andrea che è stato uno dei primi giocatori della scuola basketarezzo nel campionato 2003-2004. In Sicilia aveva abbinato la carriera di giocatore con quella di allenatore, i risultati non sono tardati ad arrivare con la conquista della finale regionale Under-13 da capo allenatore nel campionato 2019-2020. Al suo primo anno con la Sbassi dedicherà 360 gradi alla causa amaranto, da allenatore seguirà in prima persona il gruppo Under-18 Silver, affiancherà Umberto Vezzosi per proseguire il suo percorso di crescita come allenatore e istruttore, ma soprattutto metterà a disposizione la sua esperienza di grande tiratore di Serie A lavorando individualmente con i migliori prospetti del vivaio amaranto.